Pane come cultura, tradizione, condivisione e risorsa da preservare. Confesercenti Pesaro Urbino ha ospitato nelle weekend l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Panificatori di Confesercenti dal titolo Cultura Panis, un'iniziativa per valorizzare la tradizione dei pani d'Italia che rischia di essere sempre più precaria. I mastri fornai di Fiesa Panificatori Confesercenti hanno infatti esposto a Palazzo Gradari i loro prodotti regionali provenienti da ogni angolo della penisola. Un'esposizione alla quale è seguito il convegno sul futuro della panificazione artigianale nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Parte dall'anno scorso un'idea di presentare il pane della pace anche in questa città, prima era stata a Ferrara e ho insistito con la mia associazione molto importante in tutta Italia di dire perché non presentare in questo momento di grandissime difficoltà, presentare il mestiere del fornaio e il pane. Come vedete abbiamo portato tutti i pani d'Italia nella rappresentazione. Vogliamo farvi capire quanto è importante l'assunzione del pane tutti i giorni e comprarlo fresco dal fornaio perché il fornaio artigiano sta scomparendo signori miei e ci perdiamo una cultura, una cultura molto importante, millenaria. Io sono qua a Pesaro perché ho un carissimo amico che è Pagnoni, vicepresidente al suo panificatore nazionale, che se guardo la sua storia che parte dal nulla ed è riuscito da ragazzino, da fattorino, ha fatto tantissimi mestieri, riuscire a imparare quest'arte che oggi oltretutto è riuscito a passare quest'arte ai figli e mandare avanti questa tradizione non è facile. Abbiamo pensato di inserire questi due giorni per una cosa talmente per noi ovvia perché siamo fornai che più della natura del fornaio non c'è chi fa il pane. Però siccome viviamo in un momento di un po' di crisi, un po' di difficoltà in tutti i sensi, cominciando dal trovare il personale e perciò cerchiamo di sensibilizzare la gente che venga nei nostri negozi a acquistare il nostro pane. È un evento nazionale organizzato da Confesercenti nazionale e noi siamo contenti di ospitare questo evento in occasione di Pesero Capitale della Cultura perché è un modo per far conoscere come fa Confesercenti da tanti anni il nostro territorio, il lavoro dei nostri associati, il lavoro di tutta una comunità. Siamo qui proprio per far vedere e per portare l'originalità di questo prodotto. Oggi purtroppo ci troviamo spesso a combattere con prodotti che vengono da fuori territorio nazionale, e spesso anche internazionali, quindi che vengono semplicemente surriscaldate o riscaldate all'interno dei nostri grandi magazzini. Invece oggi vogliamo far capire quali sono le origini e quali sono le proprietà più importanti che il pane ci riserva. Una mostra, un convegno e un gesto di condivisione con la Caritas che ha visto la domenica la distribuzione di 3.000 panini della pace in 11 parrocchie di Pesero al termine della principale messa domenicale. Questo vuol dire anche un occhio particolare anche al momento sociale in cui viviamo. Verrà distribuito gratuitamente il pane, perciò continua anche quel servizio che viene dato ai cittadini da anni dai nostri panificatori.